che dire le intenzioni sono ottime anche perché poi le intenzioni contano moltissimo nel senso nelle intenzioni uno può fare il processo le intenzioni le intenzioni sono il seme da cui nasce qualsiasi albero esperienziale no questa ripresa è fatta su una moto in movimento è morto denis hopper ma easy rider vive ancora e le cose sono si scrivono veramente ogni giorno io dico sempre il libro della nostra vita è compilato pagina dopo pagina ma con scadenza giornaliera questo progetto va in questa direzione non per niente sono chiamato daily expo almeno nome provvisorio io sono convinto poi che avere il punto di vista di tutti ricostruisce proprio questo sistema nervoso che che la società in fondo siamo veramente dei gangli singoli di un sistema nervoso ma poi è il nostro sforzo collettivo che che produce scosse che che dà energia quindi ricostruire questo questo sistema nervoso questo mosaico noi tesserine sperdute colorate questo mosaico è bello cercare di ritrovare un'immagine complessiva poi voglio dire può essere veramente fucsia o grigietto grigio ma ma veramente il senso complessivo che ridà senso l'expo a me sembra un pochino un baraccone però forse un po antico anche credo che quando c'è positività nel fare le cose poi si arriva anche ottimi risultati ad esempio io parlo d'architetto a me l'approccio di totale smaterializzazione mi piace molto abbiamo appena a shanghai il trionfo della costruzione ancora va il cemento trasparente per il padrone italiano a me sembra delle cazzate totali quindi questo fatto di rinunciare a costruire già mi sembra che milano sia abbastanza matura e voglia raccontare una storia nuova e siccome inevitabilmente dobbiamo testimoniare la contemporaneità e non correre dietro a passatismi del cazzo allora forse forse milano già un pochino l'ha imbeccata poi voglio dire franco i suoi amici li sceglie sempre con attenzione noi forse possiamo anche fare da da controcampo da contraltare la coscienza come abbiamo sempre fatto non lo so non lo so qualsiasi cosa in ogni caso io credo che veramente anche da dall'equilibrio dei contrari no si sviluppino le cose fossimo tutti buoni poi non ci sarebbero i cattivi non si capirebbe chi sono i buoni insomma gli indiani e cowboy noi ci mettiamo un po in dialima insomma e bene così bravi bravi anche perché poi oggi fra come ha fatto poi un regalo mi ha portato il mio albero preferito alessandro guerriero un amore diversa quindi se c'è grazie a tutti grazie a tutti